E' uno dei segnali più o meno spericolati che lancia Rina che non vuole accollarsi tutta la responsabilità delle stragi siciliane del 1992. Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti, le posso dire che era un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre, che vuol dire? E vuol dire che una volta rispondendo al procuratore Lari di Caltanissetto un paio di anni fa, diceva, ma anche questa storia del bacio di Andreotti, dice, cos'è lo scemo d'Italia che Andreotti bacia a me? Certo è sempre stato andreottiano fino a quando gli è convenuto come tutta la mafia e poi la mafia ha cambiato orientamento in quegli anni perché gli andreottiani di Sicilia non hanno più garantito la mafia soprattutto per quanto riguarda il maxiprocesso. E' in vena di lasciare messaggi, possiamo dire una cosa, qualche mese fa Totorino è stato visitato in carcere, appena è entrato il medico legale che doveva visitarlo ha detto, sono perfetto da qua a qua, dal mento alla testa, vuole dire io non sono come l'altro corleonese provenzano che non ci sta più con la testa, io nonostante l'età sono ancora lucido e sono in grado di lanciare i miei messaggi forse per ricattare qualcuno.